Musica Posta la legge sui piccoli comuni blocca la chiusura degli uffici postali Salerno saluta gli angeli del mare domani i funerali proclamato lutto cittadino Napoli prevenzione della criminalità anche la BCC di Buonabitacolo tra i sottoscrittori del protocollo con abi e prefetture campane Gio Petrosino al centro dello spot video del Salese Domenico Colangelo Padula domenica 26 novembre seconda edizione di A un passo dal sì organizzato da Wendy e Even Planner Sogni in bianco di Marianna Cafaro Banca Montepruno e Pino Pinto Bend Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Uno News la legge sui piccoli comuni salverà i borghi con meno di 5.000 abitanti dalla perdita degli uffici postali i dettagli nel servizio di Rosa Romano Sembra che la legge sui piccoli comuni stia già avendo i suoi effetti positivi impegnando al mantenimento dei servizi essenziali nelle realtà con meno di 5.000 abitanti la normativa reca con sé la sostanziale sospensione della chiusura degli uffici postali una buona notizia che interessa diversi centri del Vallo di Diano del Cilento e degli Alburni interessati dal piano di razionalizzazione delle poste, negli anni si sono visti chiudere sportelli o ridurre l'orario di apertura tra polemiche proteste e ricorsi al TAR ieri la D di poste italiane Matteo Delfante era in audizione in Commissione Ambiente Territorio, Lavori Pubblici e Trasporti della Camera dei Deputati il nuovo piano di poste esclude chiusure e rimodulazioni orarie degli uffici postali dei nostri centri minori un piano che va nell'auspicata direzione di garantire un servizio importante come quello postale a tutti i cittadini in coerenza con la legge 158 del 2017 così commenta l'audizione Ermete Realacci presidente della Commissione e primo firmatario della legge Salvaborghi per i comuni o le frazioni non serviti dal servizio postale continua Realacci la legge prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni composte italiane per effettuare i pagamenti di imposte comunali tasse, bollette e vaglia presso gli esercizi commerciali per garantire uno sviluppo sostenibile e un governo equilibrato del territorio la nuova normativa stabilisce che i vari enti competenti promuovano nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali servizi postali compresi a tale scopo i piccoli comuni possono istituire anche in forma associata centri multifunzionali per l'erogazione delle prestazioni i piccoli comuni possono proporre d'intesa con la regione di appartenenza e secondo le modalità previste dal contratto di programma iniziative per sviluppare anche il ripristino degli uffici eventualmente chiusi l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali tali da valorizzare la presenza capillare del servizio da chiarire poi conclude la frequenza della consegna della corrispondenza spostiamoci a salerno dove domani alle 17 si terranno i funerali delle 26 donne vittime del mare giunte al porto salernitano lo scorso 5 novembre dopo il rito funebre ci sarà la sepoltura presso i cimiteri di salerno e provincia le luci d'artista spente per mezz'ora in segno di lutto per le 26 vittime del mare anche così salerno saluterà nella giornata di venerdì le 26 giovani migranti recuperate dalla nave spagnola Cantabria attraccata in città lo scorso 5 novembre il rito funebre che partirà alle 10 nel cimitero monumentale di salerno si svolgerà nella piazza degli uomini illustri e sarà organizzato dal comune di salerno in coordinamento con la prefettura in attesa di conferme da parte delle istituzioni di governo secondo indiscrezioni potrebbe partecipare la presidente boldrini sicuramente al rito funebre sarà presente il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca in quell'occasione come già annunciato nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Napoli proclamerà lutto cittadino come segno doveroso di dolore commiato nei confronti di queste giovanissime ragazze ha detto il sindaco che hanno trovato la morte in una delle ennesime tragedie del mare faremo ha aggiunto il primo cittadino in modo che sia una celebrazione semplice di eccezionale sobrietà ma nei limiti del possibile di grande solennità verranno anche spente simbolicamente per 30 minuti come dicevamo le luci d'artista intanto il primo cittadino ha inviato questa mattina una lettera ai dirigenti scolastici degli istituti del territorio chiedendo a docenti e alunni all'interno delle proprie classi un minuto di raccoglimento nel momento dell'inizio dei funerali auspicando anche una riflessione sul fenomeno dell'immigrazione le 26 bare saranno disposte sull'ostario del cimitero ognuno con una rosa bianca sul feletro delle due ragazze incinte una aspettava un maschietto di 5 mesi e l'altra aveva un feto di un mese e mezzo verranno deposti altri due fiori per ricordare due vite spezzate prima di nascere solo due delle 26 giovani donne sono state riconosciute si tratta di Marian Shaka e Osato Osaro la prima riconosciuta dal marito l'altra dal fratello per le altre resta l'anonimato il riconoscimento di almeno e due di loro ha permesso di appurare che una era di religione cristiana l'altra musulmana i funerali dunque saranno laici e interreligiosi dopo il rito funebre nove delle salme verranno sepolte nel cimitero salernitane le altre verranno divisi in altri cimiteri comunali ed ora la cronaca nella notte tra lunedì e martedì ladri hanno tentato di entrare in una tabaccheria a Padula hanno rotto il pussante con cui si attiva l'apertura della Sara Cinesca e forzato la stessa sono stati sfortunati e subito scattato l'allarme che ha allertato la vigilanza in zona prontamente intervenuta le telecamere attive del piazzale antistante l'etercizio commerciale hanno poi consentito di immortalare i malviventi che erano in tre e incappucciati ieri invece a Sala Consilina i ladri hanno preso di mira due abitazioni e una poco distante dall'altra portando via circa mille euro in denaro anche in questo caso sembrano aver agito in gruppo e su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina ancora cronaca operazione della guardia di finanza di Marina di Casalvelino che hanno scoperto un falso cieco da cinque anni che da cinque anni percepiva l'indennità di accompagnamento l'inps l'uomo dovrà restituire oltre 60 mila euro un falso cieco è stato scoperto dalla guardia di finanza di Marina di Casalvelino a finire sotto scacco un 35enne di Ascea che dal 2012 riceveva un'indennità di accompagnamento da parte dell'inps per oltre 60 mila euro trattamento pensionistico dovuto alla sua condizione di cecità assoluta tuttavia le fiamme gialle a termine di accurate attività investigativa avviata dalla procura della Repubblica di Valo della Lucania volte alla tutela della spesa sanitaria pubblica nazionale nonché al contrasto delle illecite percezioni di pensione per invalidità totale ha individuato il 35enne di Ascea che a dispetto della sua condizione di cecità assoluta quotidianamente accompagnava il figlio a scuola a piedi senza ausilio di nessuno faceva la spesa da solo e a volta aiutava anche altre persone a portare le buste della spesa vicino alle loro macchine e inoltre giocava a carte addirittura nel corso di un controllo della Guardia di Finanza in merito al rilascio dello scontrino fiscale l'uomo quale cliente del bar ha firmato il verbale delle forze dell'ordine un'attività in totale contrasto con il suo status di cieco tutte queste prove documentate da videoriprese hanno portato la denuncia dell'uomo per truffa aggravata ai danni dell'Inps mentre la procura della Repubblica di Valo della Lucania ha emesso un provvedimento cautelare volto al recupero della somma indebitamente percepita torniamo a parlare della vicenda che vede al centro il consorzio centro sportivo meridionale mancato pagamento del risarcimento del danno così il Consiglio di Stato ha condannato il consorzio al pagamento del danno risarcitorio del mancato affidamento dei lavori presso l'ex foresteria alla ditta Cosmar di Sant'Arsenio la ditta aveva presentato negli anni scorsi un ricorso al Tar per chiedere l'annullamento della procedura di affidamento dei lavori alla ditta vincitrice della gara parlando di irregolarità nella procedura di di basso a seguito di ricorsi la Cosmar si era vista riconosciuta dalla tribunale amministrativo solo il risarcimento del danno per il mancato guadagno circa il 4% del lavoro pari a oltre 3 milioni di euro con il consorzio che era stato condannato a versare circa 125 mila euro non avendo ancora ricevuto questo importo la Cosmar ha presentato un nuovo ricorso al consiglio di stato che ha nuovamente condannato il consorzio al pagamento di quanto dovuto aggravando la sentenza con la condanna al pagamento delle spese legali per circa 5 mila euro andiamo avanti dall'associazione bancaria italiana e prefetture della Campania un nuovo progetto legato alla prevenzione della criminalità coinvolta anche la BCC di Buonabitacolo presente ieri a Napoli per la stipula di questo protocollo i dettagli nel servizio Prevenzione alla criminalità che parte dalle banche al via un nuovo progetto che vede in prima linea anche la BCC di Buonabitacolo che ieri con il presidente Pasquale Gentile e il direttore generale Angelo De Luca era a Napoli per stipulare un accordo finalizzato proprio a rafforzare il livello di sicurezza in tutte le sedi e le filiali dell'istituto di credito di Buonabitacolo presso la sede della prefettura di Napoli è stato sottoscritto un protocollo d'intesa siglato da ABI da tutte le prefetture campane e dalle banche aderenti che punta a rafforzare il tema della sicurezza e dei controlli negli istituti di credito il presidente Pasquale Gentile e il direttore Angelo De Luca ieri sottoscrivendo il documento hanno così voluto consolidare la qualità operativa della BCC di Buonabitacolo a livello regionale in tema di controlli per garantire la sicurezza a tutela dei propri clienti le banche aderenti si impegnano a segnalare alle forze dell'ordine carenze gravi e imprevedibili nelle misure di sicurezza come guasti nei sistemi di controllo degli accessi movimenti sospetti di persone dentro e fuori le dipendenze bancarie eccezionali aggravamenti del rischio come aumento anomalo delle giacenze di cassa lavori da svolgere durante l'orario di apertura degli sportelli che inficino l'efficacia delle misure di sicurezza come sostituzione di un sistema di allarme e tutte le situazioni di rischio in cui versano dipendenze bancarie inoltre gli istituti di credito si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e il rischio attacco alle apparecchiature ATM con aggiornamento periodico della valutazione in base all'evoluzione dei fenomeni criminosi e ad informazioni delle forze dell'ordine ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente che qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza queste alcune delle indicazioni del protocollo con la prefettura che si impegna anche a promuovere incontri di coordinamento con le forze dell'ordine per la trattazione di temi legati alla sicurezza bancaria in base a particolari criticità che dovessero essere segnalate un passo necessario e doveroso ha riferito il presidente Gentile la sottoscrizione di questo protocollo al fine di garantire sempre maggiore sicurezza ai nostri clienti ed ai nostri dipendenti soprattutto un'adesione che va nella direzione di una sempre maggiore collaborazione con la prefettura e le forze dell'ordine la criminalità continua Pasquale Gentile si combatte su tutti i fronti anche e soprattutto quello finanziario non possiamo e non dobbiamo garantire linee d'ombra nei movimenti anomali di capitali di dubbia provenienza la nostra banca conclude il presidente della BCC di Buonabitacolo opera su un tessuto sano ed è in questa direzione che vogliamo proseguire per garantire qualità e soprattutto legalità nei territori di nostra competenza andiamo ora a Milano dove il nascente gruppo Cassa Centrale Banca ha raccolto intorno a sé i soci e i responsabili dei settori delle banche aderenti al gruppo in preparazione del futuro come gruppo bancario oltre all'assemblea dei soci straordinaria c'è stata anche l'occasione per organizzare un corso di comunicazione per un corso di formazione per il settore comunicazione con i rappresentanti chiamati a confrontarsi con grandi esperti nella tavola rotonda dal titolo Comunicare il gruppo in rappresentanza della Banca Montepruno c'era Antonio Mastrandrea giornate intense a Milano per la Banca Montepruno in vista della costituzione del gruppo bancario di Cassa Centrale Banca che è pronto ad entrare sul mercato dei gruppi bancari in maniera decisamente competitiva oltre all'assemblea dei soci straordinari a cui hanno preso parte il direttore generale Michele Albanese il vicepresidente Antonio Ciniello in cui si è decisa un'operazione che porterà ad una capitalizzazione del gruppo per 1,26 miliardi di euro il responsabile della segreteria generale della comunicazione della Banca Montepruno Antonio Mastrandrea è stato impegnato in una due giorni di seminario e approfondimento sui temi della comunicazione i referenti di 70 banche si sono ritrovati nei giorni del 12 e 13 novembre presso l'hotel Milia a Milano per la riunione formativa sul tema comunicare il gruppo press, event e media relation l'incontro è stato anche occasione di confronto tra i responsabili delle aree comunicazioni delle banche che si apprestano ad essere parte integrante del nascente gruppo bancario la Banca Montepruno si conferma tra i principali istituti chiamati a collaborare attivamente alla creazione del nuovo gruppo sia offrendo supporto nelle attività da intraprendere ma anche nel recepimento delle informazioni necessarie e fondamentali per la crescita del singolo istituto e per il rafforzamento e la sempre maggiore solidità del gruppo Cassa Centrale Banca durante la due giorni di incontro Antonio Mastrandrea è stato chiamato ad approfondire temi legati alla comunicazione e dal punto di vista del rapporto con i media offrendo anche un suo valido contributo al tema soprattutto è stata un'importante opportunità di crescita culturale visti gli esperti relatori che sono intervenuti alla tavola rotonda con Sara Bonifazio di Ansa Milano che ha parlato di i tempi e le parole la comunicazione non programmata Angelo Brunello dell'agenzia CDR Communication che ha relazionato sull'equilibrio della comunicazione cosa necessario mettere in evidenza Manuel Follis di Milano Finanza ha invece parlato di buona e cattiva comunicazione come gestire i rapporti con i giornalisti infine interessante l'intervento di Vincenzo Galimi direttore della comunicazione di Deutsche Bank Italia che ha esposto un'analisi su come è cambiata la gestione della comunicazione tutte relazioni che hanno permesso di preparare al meglio anche il settore della comunicazione in vista della Costituzione ufficiale del gruppo confermando come Cassa Centrale Banca sia lavorando in maniera meticolosa al futuro spostiamoci ora nel Cilento i sindaci del distretto sanitario numero 70 hanno decretato lo stato di agitazione permanente sono in protesta per la situazione in cui versa l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania Rosa Romano Il Cilento così come è successo al Vallo di Diano sta attraversando una profonda crisi per il depauperamento di presidi importanti quali il Tribunale e l'ospedale di quello che è il centro capofila del territorio ovvero Vallo della Lucania mentre il Palazzo di Giustizia soffre soprattutto della carenza cronica di personale per il San Luca le criticità sono molte di più tanto che i sindaci dei comuni afferenti al distretto sanitario 70 sono in stato di agitazione permanente proclamato durante l'ultima riunione del Comitato di Distretto fanno sapere gli amministratori cilentani quando è stato anche deciso di chiedere un incontro al Governatore De Luca e un'audizione al Presidente della Quinta Commissione Permanente della Sanità della Regione Campania Siamo stanchi afferma Andrea Salati Sindaco di Gioia e Presidente del Comitato delle promesse del Direttore Generale dell'ASL regolarmente non mantenute l'ospedale San Luca è oggetto di un lento depauperamento nei servizi e nelle apparecchiature che mette a repentaglio la sopravvivenza del Presidio e dei cittadini del basso e variegato territorio a sud della provincia di Salerno che vi afferiscono chiediamo che venga rispettato quanto è stato disposto nell'atto aziendale approvato dalla Regione Campania senza che vengono mantenute in vita strutture necessarie solo a chi le occupa non è più tempo di rimanere a guardare e attendere gli eventi che sono finora negativi uniremo le nostre forze a quelle di sindacali e a quanti hanno a cuore le sorti della sanità nel territorio per far sì che l'ospedale San Luca abbia vita lunga e soprattutto conclude Salati il ruolo di guida che ha sempre avuto nella sanità sud della provincia di Salerno e che la legge e la collocazione geografica gli assegnano spostiamoci a Sanza dove prosegue fino alla fine dell'anno il doposcuola organizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione di due ragazzi del servizio civile con l'amministrazione esposito che punta ad implementare il servizio anche per il 2018 a Sanza presso la locale biblioteca comunale Giovanna Garozzo Maria Curcio prosegue fino a fine anno il doposcuola frequentato dagli alunni delle scuole sanzesi un servizio reso possibile grazie ai due giovani del servizio civile che aiutano gli studenti a fare i compiti e approfondire gli argomenti di studio un'attività che si svolge dal lunedì al venerdì per sei ore in un luogo la biblioteca comunale dove i ragazzi si ritrovano e condividono esperienze trasformando il momento dei compiti in un lavoro collettivo di condivisione degli argomenti un servizio che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito punta a garantire anche nel 2018 in quanto dichiara il primo cittadino il futuro si gioca sulla linea sottile della qualità culturale delle nuove generazioni un punto fermo nel percorso di crescita della nostra comunità a breve continua con il supporto dell'assossorato alle politiche sociali offriremo ai ragazzi anche la visione di film e documentari che saranno proiettati e discussi con i ragazzi stessi siamo orgogliosi conclude il primo cittadino di questo servizio che arricchisce i nostri giovani e li rende protagonisti di un percorso di inclusione sociale togliendoli dalla strada ma anzi spingendoli nella costruzione dello spirito di comunità quanto mai necessario per attuare quel necessario cambiamento che è alla base della nostra visione del futuro e spostiamoci ora a Teggiano sabato 18 novembre nel centro storico si terrà l'undicesima edizione della festa dell'infanzia dal titolo in viaggio si marce nella storia tra castello cattedrale e liceo artistico il programma prevede una visita guidata a cura dell'architetto Giovanna Delia una rappresentazione teatrale di Enzo d'Arco e gli allievi della cantina delle Alti nel castello Maccheroli e una rappresentazione artistica al cura del professor Germano Torresi noi con questa notizia chiudiamo la prima parte dell'Euno News tra poco con la seconda parte seconda parte dell'edizione pomeridiana dell'Euno News che ci porta a Sala Consilina Domenico Colangelo autore e autore di teatro e cinema tra i tanti temi sociali affrontati si è dedicato adesso allo spot video sulla figura di Gio Petrosino il poliziotto padulese ucciso dalla mano nera nel 1909 Antonella Citro L'emigrazione il femminicidio la violenza di genere la legalità e la storia attraverso il teatro e il cinema sono solo alcuni dei temi sociali affrontati da Domenico Colangelo Salese giovani attori autori di teatro e cinema dopo John Martin il soldato blu storia di un uomo quasi normale con la valigia in mano Aquiloni il cortometraggio quasi normale sul femminicidio e la violenza di genere ha scritto diretto interpretato lo spot video Gioe su Gioe Petrosino il poliziotto itano americano ucciso dalla mano nera questo progetto nasce dalla collaborazione Spiega Colangelo con Alessandro Fericelli Luigi Dauri e Giovanni Silverio organizzatori e promotori del Toco Film Festival ho voluto raccontare la figura di Gioe Petrosino e ho deciso di realizzare uno spot video breve di mezzo minuto il cui scopo principale fosse quello di utilizzare il linguaggio dell'audiovisivo e la sua immediatezza per avvicinare i più giovani a quest'uomo straordinario dopo sopralluoghi nella casa museo di Petrosino a Padula e dopo aver conversato con il pronipote Nino Melito le letture di alcuni libri testi documenti sulla biografia e le riunioni con la troupe Colangelo ha deciso di basare lo spot sul rapporto tra Petrosino e Padula attraverso il racconto della partenza e del ritorno la prima parte è dedicata alla partenza avvenuta nel 1873 quando il 13enne Giuseppe Petrosino con la sua famiglia lascia Padula per trasferirsi in America per la sua innocenza ho scelto il giovane Pier Michele di Biase dice la seconda parte invece è dedicata al suo ritorno nel 1909 Colangelo si sofferma sul suo cappello da poliziotto la sua divisa il suo distintivo numero 285 l'amore per Caruso e poi la candela che si è consumata durante quella notte insonne e l'orologio sul comodino della sua stanza fermo alle 4 e 30 andiamo ora a Padula dove domenica prossima torna la seconda edizione di A un passo dal sì l'evento dedicato ai futuri sposi è organizzato da Sogni in Bianco di Marianna Cafaro con la collaborazione della Banca Montepruno e della Pino Pinto Band che anche quest'anno sosterranno la realizzazione della manifestazione di grande successo l'evento è in programma domenica prossima presso la Certosa di San Lorenzo sarà arricchito da un seminario formativo e prevede anche quest'anno importanti ospiti dopo il successo dello scorso anno e la grande partecipazione di pubblico la Wedding and Event Planner di Marianna Cafaro torna a proporre la nuova giornata dedicata ai futuri sposi con tutte le idee e le ultime novità per rendere il giorno del matrimonio il giorno più bello e perfetto grazie alla collaborazione della Banca Montepruno che ha da subito sostenuto l'idea rispondendo alla volontà dell'istituto di credito di essere vicino anche e soprattutto alle giovani coppie che si apprestano ad affrontare l'importante passo di formare una nuova famiglia e della Pino Pinto Band domenica 26 novembre torna l'evento ad un passo dal Sì giornata che prenderà il via nella mattinata a partire dalle ore 9 per proseguire tutto il giorno fino alle ore 20 anche quest'anno Marianna Cafaro ha voluto legare la giornata dedicata ai futuri sposi alla straordinaria bellezza della Certosa di San Lorenzo a Padula dove si svolgerà la manifestazione si ripete anche la formula della presenza di ospiti di eccezione in grado di offrire consigli utili per rendere perfetto il giorno del matrimonio ad aprire la manifestazione presso la sala Granai sarà Giorgia Fantin Borghi della 5 esperta di galateo del matrimonio definita da L tra le top 5 organizzatrici di matrimonio oltre ad essere stata anche inserita tra le 10 migliori wedding planner di Milano Giorgia Fantin Borghi terrà a partire dalle ore 9.30 un seminario informativo a partecipazione libera grazie al supporto della Banca Montepruno che ha sostenuto l'iniziativa per rendere proprio l'ingresso gratuito a tutti gli interessati durante l'incontro di apertura sarà anche presentato il programma della giornata e verrà spiegata la differenza tra wedding planning wedding design e wedding production nonché come si può diventare un inimitabile e preparata wedding planner alle 16.30 sarà presentata la collezione di abiti da sposa della famosa stilista Pinella Passaro novità della seconda edizione di A un passo dal sì Pinella Passaro è tra le più importanti stiliste di alta sartoria sposa a livello nazionale ed internazionale che dal 2013 è anche responsabile di una rubrica dedicata nella trasmissione detto fatto condotta da Caterina Balivo sul Rai 2 sono felice di poter annunciare ha dichiarato Marianna Cafaro la seconda edizione di A un passo dal sì che vede la collaborazione di Pino Pinto e la partnership della Banca Montepruno a Cuvai il mio forte ringraziamento quest'anno evidenzia abbiamo aggiunto la parte seminariale in quanto sono ottime occasioni formative per i giovani che vogliono conoscere più da vicino questo lavoro oltre all'appuntamento del 26 novembre conclude Marianna Cafaro ne seguirà anche un altro il 10 dicembre di cui in seguito saranno svelati i dettagli e la certosa di San Lorenzo di Padula è stata protagonista anche lo scorso fine settimana con i laboratori teatrali svoltisi nell'ambito della manifestazione Luci della Ribalta Pietro Cusati ha intervistato per noi Pasquale De Cristoforo regista teatrale e Antonello Mercurio direttore artistico della Kermes questo è un laboratorio di tre giorni abbastanza intensivo tutto incentrato sull'opera di Pirandello ma su due opere in particolare di Pirandello i sei personaggi in cerca d'autore nel 1921 e la sua opera ultima I giganti della montagna che è notoriamente un'opera non compiuta non terminata ma che può e a giusta ragione rappresentare un sunto definitivo della sua poetica certamente gli argomenti sono abbastanza complessi come dicevo Pocanzi mi piange il cuore quando si banalizza il teatro il teatro ha bisogno dei suoi tempi delle sue maturazioni dei suoi approfondimenti e grazie a questo laboratorio che il festival ha proposto insieme ad altre masterclass c'è l'opportunità la possibilità di approfondire questi temi che altrimenti sarebbe un peccato banalizzare il festival per la prima volta si apre al territorio e per la prima volta si apre alle attività di formazione vera e propria e sostanzialmente l'idea è un po' questa diciamo nell'ottica di una destagionalizzazione dell'offerta turistica con l'amministrazione di intesa con il sindaco Paolo Imparato e con la giunta abbiamo immaginato pensato di poter come dire far slittare il festival in più date e arriviamo così fino a praticamente all'otto dicembre il festival si realizza si organizza sulla possibilità di poter ascoltare una serie di concerti noi abbiamo incominciato ad agosto e c'è anche un'attività come dicevo di formazione quindi masterclass laboratori seminari quello che stiamo osservando in questo momento è un laboratorio sul contrapunto 5600 e ci sono altri seminari altri laboratori che si stanno tenendo e si sono tenuti uno già molto bello molto ben riuscito con Nando Citarella e Paige Mattadion sulla sulla musica etnica e poi Pasquale Di Cristofo sul teatro Michele Monetta ne farà uno a dicembre sul mimo e sulla commedia dell'arte insomma è un tentativo che mi pare stia andando molto bene perché abbiamo una buonissima risposta e ovviamente se ci sarà continuità nei prossimi anni penso che questa esperienza non possa che crescere e maturare ancora di più E con queste interviste si conclude l'edizione pomeridiana di L1 News io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata e vi ringrazio